I medi 41 bis E 24 anni fa la Camorra uccideva Don Peppe Diana nel suo ricordo a Casal di Principe, nella casa Don Diana bene confiscato alla Camorra, luogo simbolo della lotta proprio alla Camorra gli stati generali dell'antimafia Anna Teresa Damiano La messa delle 7.30 che Don Diana non riuscì a celebrare e che ha dato sempre il via alla giornata del ricordo quest'anno non c'è stata ed è la prima volta lo dicono con amarezza gli esponenti del comitato Don Diana pur ricordando che stasera alle 19.30 nella chiesa di San Nicola sarà il vescovo di Aversa a chiudere le manifestazioni proprio con una messa a Casal di Principe comunque 24 anni dopo la scelta è di evitare rituali, marce, cortei e confrontarsi sulle azioni Certo anche qui dobbiamo segnalare forse qualche cedimento qualche diminuzione diciamo di attenzione perché non è più il tema delle mafie non è centrale in questo paese quindi in qualche maniera anche alcune iniziative ci sembrano in qualche maniera un po' più blande l'importante è non considerare nulla emergenza perché considerare emergenza